Vedo un terremoto che sta per arrivare a questo paese e sarà un terremoto terribile, veramente scioccante, che sta per arrivare in questo paese. Quel terremoto è un terremoto terribile. Vedo che sta avvenendo in questo paese. Il Signore mi ha messo in un posto e vide il campo verde che si vede in questa nazione. E poi la terra si aprò e ha ingoiato l'altra parte. Vedo un terremoto che sta per arrivare in Italia. L'ultima due volte, quei terremoti si sono venuti ad impiuti. Vedo la comunità dinanzi a me, the foreground, there is, I think it's a community, it's a community, sembra una comunità, it's a field, like a community. Un campo come una comunità. And the earth opens. E la terra si aprì. And swallows them. E la terra ha ingoiato quella comunità. So actually, that land moves like this. It moves like this. And the other community in the background moves to cover this place. Vieni per coprire quella comunità che è stata appena ingoiata. voglio ripetere di nuovo. Vedo un terremoto che sta per arrivare in Italia. E il Signore sta chiedendo un ravvedimento. Ravvedimento. Ravvedimento dal peccato. Ravvedimento dal cattolicissimo. so that you may prepare for the coming of the Messiah. Così possiamo preparare per il ritorno del Messia. I see a community in front of me. Vedo una comunità dinanzi a me. and the earth opens up. E la terra si aprì. And they are swallowed in. E poi la terra ingoiò quella comunità davanti. Ingoiò. Quindi vengono ingoiati. And the other community in the background comes back and closes this part. E quell'altra comunità davanti viene lì per chiudere quella comunità che è stata appena ingoiata. Quindi i pastori hanno una responsabilità per chiamare un ravvedimento nazionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.